Buonasera, buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è il 23 gennaio 2019. Nel video di oggi parliamo di trading con le criptovalute, per cui facciamo alcune premesse necessarie per distinguere la figura degli investitori, degli holder, da quella dei trader, dopodiché condividerò con voi alcuni suggerimenti, alcuni consigli riguardo il trading ovviamente con le criptovalute. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi sembra interessante non dimenticate di lasciare un mi piace al video, condividete se vi è piaciuto in particolar modo, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e cliccate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Premessa necessaria ragazzi, mi raccomando io non sono un consulente finanziario, quindi se volete investire sapete la storia e la fate sempre le vostre ricerche perché è un mercato molto molto rischioso. Allora ragazzi, la premessa necessaria per quello che riguarda il trading con bitcoin o con le criptovalute o comunque con qualunque altro asset speculativo è distinguere intanto necessariamente tra la figura dell'investitore o anche detto holder e la figura del trader. La figura dell'investitore o dell'holder è la figura di un soggetto che investe sulla base di valutazioni fondamentali riguarda un progetto per cui io sono un investitore, credo che in futuro bitcoin varrà molto più di 3500 euro come oggi per cui oggi compro un bitcoin e il mio interesse è mantenerlo lì finché il prezzo di bitcoin non raddoppia, triplica o addirittura fa 10 o 100 volte. Quindi io compro bitcoin, non mi interessa venderlo e comprarlo sulla base delle oscillazioni del mercato, ma spero che in futuro il prezzo dell'asset si valuti, si apprezzi in modo che io possa creare ovviamente un profitto. Qual è il limite logicamente ragazzi di questa strategia? È che è molto facile fare i soldi se si è holder in un mercato che è rialzista, per cui io compro bitcoin a mille e ho beccato il momento giusto per cui la partenza del trend rialzista, vendo bitcoin a 20.000 mi sento un grandissimo investitore, invece se compro bitcoin a 20.000 e successivamente ci sono 12 mesi di bear market e me lo ritrovo a 3500 mi sento un cretino perché ho vanificato praticamente l'85% del mio investimento. Quindi il concetto è, gli holder sono tutti bravi nel momento in cui il mercato rialzista, ma se il trend è invece ribassista, probabilmente essere holder e semplici investitori non è una buona strategia. La prova è tutti coloro che hanno comprato bitcoin, me compreso durante la fase finale della bolla, che adesso si trovano logicamente un portafoglio molto molto sanguinante. Il trader invece è un altro tipo di figura che sfrutta quelle che sono le oscillazioni del mercato e il mercato delle cripto è un mercato molto volatile che garantisce ai trader esperti una fortuna perché oscillazioni del 5, del 10%, del 15% al giorno rappresentano per i trader esperti una grandissima opportunità di guadagnare sia che il mercato scenda che il mercato salga. Quindi il trader tendenzialmente sulla base di analisi tecnica, per cui guarda i grafici, considera alcuni indicatori, decide se comprare e aspettare che il prezzo salga e poi rivendere tranne un profitto oppure vendere e aspettare che il prezzo scenda e ricomprare quando il prezzo è sceso. Se si vuole comprare per rivendere poi quando il prezzo è salito si vuole aprire una posizione che è long. Se invece si vende e si aspetta che il prezzo scenda in qualche modo si è short riguardo a quella determinata criptovaluta. Quindi ragazzi spero che questa introduzione sia stata abbastanza chiara per capire la sostanziale differenza che c'è tra holder piuttosto che invece trader. Passiamo poi ragazzi alla parte dedicata ai consigli, ai suggerimenti riguardo ovviamente il trading con le cripto. Il primo suggerimento che mi sento di darvi è quello di avere gli strumenti giusti per fare trading. Quali sono gli strumenti non solo giusti ma soprattutto necessari per questo tipo di attività? Il primo è logicamente un account su un exchange che vi permette di comprare e vendere cripto. Io personalmente faccio trading esclusivamente su Binance dopodiché come seconda cosa è consigliabile soprattutto se fate trading sulla base di analisi tecnica avere una piattaforma che dia una maggiore varietà di strumenti di analisi tecnica rispetto ai grafici degli exchange stessi. Io personalmente utilizzo come software di analisi tecnica TradingView, inizialmente utilizzavo un'altra piattaforma che si chiama Coinogy poi sulla base di alcuni problemi ho deciso di cambiare a favore di TradingView. Comunque TradingView è uno strumento essenziale per quanto mi riguarda perché ti permette di inserire all'interno del grafico una montagna di indicatori che ti possono indicare appunto se in questo momento è probabile che il prezzo vada o verso l'alto o verso il basso. Ricordate che il trading è sempre esclusivamente una questione di probabilità e non di certezze per cui esistono dei trade che sono molto probabili altri trade che sono più rischiosi e di conseguenza meno probabili ma non c'è mai logicamente una certezza nel trading. Il secondo strumento che io personalmente utilizzo è questo, si chiama Tricommas il link lo trovate in descrizione se volete utilizzarlo per iscrivervi farò poi un tutorial dedicato su questa piattaforma perché è molto interessante e ha tantissime diverse funzionalità però sostanzialmente che cosa accade? È una piattaforma che si collega ai tuoi account sull'exchange e ti permette di aprire e chiudere i trade con incredibile semplicità impostando quelli che sono gli stop loss e i take profit molto molto velocemente. Prima caratteristica. Seconda caratteristica dà la possibilità di creare dei bot automatici che comprano e vendono criptovalute sulla base di alcune indicazioni che tu puoi impostare addirittura alcune indicazioni che sono collegate a trading view per cui ipoteticamente è possibile impostare un bot che dica nel momento in cui bitcoin è qui vedete che bitcoin era over bot nel momento in cui bitcoin è over bot vendi bitcoin nel momento in cui bitcoin è over sold compra bitcoin quindi si possono creare diversi bot sulla base di indicazioni che inserisci tu o addirittura anche sulla base di indicatori tecnici collegati all'account di trading view quindi ragazzi primo consiglio è importante avere gli strumenti giusti secondo consiglio che mi sento di darvi riguardo al trading è ovviamente la necessità di fare trading in assenza quanto più possibile di coinvolgimento emozionale e quindi di emozioni si dice e si sa che il trader debba essere nel momento in cui fa trading assolutamente privo di emozioni e rispettare molto precisamente quella che è la sua strategia e come sapete benissimo le emozioni probabilmente in molti aspetti della vita non solo nel trading sono un nemico per prendere decisioni corrette quindi è facile vedere il trend che va verso l'alto che va verso l'alto quindi emozionarsi pensare che il trend continuerà e comprare oppure il trend vedere che scende verso il basso e di conseguenza vendere sulla base di emozioni che sono momentane accade spesso che magari si apre un trade long per cui si scommette in qualche modo che bitcoin salirà dopodiché dopo che è aperto il trade bitcoin ha un leggero ritracciamento per cui scende e va nella direzione opposta rispetto a quello che è il vostro trade e subito c'è delle emozioni negative per cui c'è un po' di paura e di ansia solo perché la candela successiva è contro il vostro trend e quindi si tende a chiudere dicendo no no ho sbagliato questo trade sarà sicuramente in perdita invece è necessario distaccarsi dal trade soprattutto dopo che si è entrato nel trade e aspettare che si vada a take profit o a stop loss comunque non guardare ogni 10 minuti il grafico per vedere da che parte sta andando il trend perché si rischia di diventare molto molto emozionali in questo senso i bot che partono automaticamente possono aiutare moltissimo perché rendono un po' questo trading automatizzato farò anche un tutorial su come fare in particolare i bot di tricommas secondo anzi scusate terzo suggerimento riguardante il trading invece riguarda questo concetto che in inglese si chiama trend is your friend per cui il trend è tuo amico until the end per cui il trend è tuo amico fino alla fine sostanzialmente fino che il trend non si esaurisce e che cosa vuol dire questo questo concetto vuol dire che è molto importante o comunque super consigliabile ricercare trade che vadano nella direzione del trend principale per cui se bitcoin sta scendendo e quindi il trend è ribassista io devo trovare occasioni per entrare short e invece se il trend è rialzista devo trovare occasioni per entrare long quindi devo andare nella stessa direzione del trend che cosa accade? che cosa accade per esempio coloro che quando bitcoin vedete che qui lo sappiamo benissimo a partire dal 13 novembre è crollato praticamente ha perso il 50% del suo valore in poche settimane sono convinto che moltissimi quando hanno visto che bitcoin si era assestato in questa zona hanno aperto posizioni long quindi sperando che bitcoin sarebbe tornato perlomeno a ritestare questo livello prezzi dei 6.000 come resistenza cosa che poi non è accaduta perché sappiamo che bitcoin è tornato a scendere fino ai 3.000 dollari quindi in questo caso i trader che hanno operato in questo modo hanno agito in contrapposizione al trend che era evidentemente ribassista adesso vi mostro un indicatore molto semplice per capire qual è la direzione del trend e quindi si sono sostanzialmente fatti male e hanno probabilmente liquidato le loro posizioni si dice anche in inglese quando si va contro il trend in particolare ribassista try to catch a falling knife per cui colui che cerca di prendere al volo un coltello che sta cadendo che cosa succede quando provate a prendere al volo un coltello che sta cadendo probabilmente vi tagliate e vi fate del male quindi assolutamente importante se fate trading andate sempre nella direzione del trend passiamo a capire quali sono due indicatori di base per capire in che direzione va il trend qua siamo per esempio sul grafico di bitcoin giornaliero io utilizzo per esempio questo indicatore che vi ho già mostrato diverse volte si chiama emaribbon è un nastro di medie mobili esponenziali e è molto semplice capire in che direzione sta andando il trend se il prezzo si trova al di sotto dell'emaribbon per cui come vedete qua il trend è ribassista quindi anche in questo momento di assistamento il trend è rimasto ribassista infatti poi è continuato a scendere di qua quindi fin tanto che il prezzo sul giornaliero sul grafico giornaliero o comunque qualunque time frame è sotto l'emaribbon il trend è ribassista nel momento in cui il prezzo riesce a salire sopra l'emaribbon e consolidare al di sopra dell'emaribbon il trend potrebbe essersi invertito essere diventato rialzista questo vale ragazzi per qualunque time frame per cui potete usare l'emaribbon sullo radio, sulle 4 ore, sul giornaliero, sul settimanale quindi primo modo è utilizzare questo indicatore qua secondo modo che è anche questo riguarda medi mobile esponenziali per esempio si possono utilizzare le medi mobile esponenziali delle 50, 100 e 200 candele come funziona? molto semplice vedete queste linee sono le medi mobile esponenziali se si trovano nell'ordine dalla più veloce per cui questa delle 50 candele questa delle 100 e questa delle 200 candele vedete che si trovano in ordine crescente per cui 50, 100, 200 il trend è ribassista nel momento in cui si invertono il trend diventa rialzista e come vedete bitcoin cioè queste medie mobili sono ben posizionate praticamente ormai dal momento in cui bitcoin è crollato dai 6.000 dollari ai 3.000 sono ancora ben posizionate con un trend che è fortemente ribassista quali sono i momenti corretti per entrare per aprire posizioni short in un trend ribassista? sono i momenti in cui c'è un momento rialzista all'interno di un trend che è all'interno di un macro trend ribassista per cui per esempio qui poteva essere intelligente aprire una posizione short così come anche qui per cui vedete che il prezzo si trova resistenza contro la media mobile e poi continua verso il suo trend anche lo stocastico è importante quando trovate una situazione di stocastico over bot all'interno di un trend ribassista potrebbe essere un buon momento per aprire una posizione short così come anche in questa circostanza qui così come anche in questa circostanza qui abbiamo lo stocastico che era over bot sia qui che in questa circostanza qui quindi questi potevano essere tre buone occasioni all'interno di un trend ribassista per aprire posizioni short quarto consiglio ragazzi riguarda molto importante riguarda la proporzione che ci deve essere tra take profit e stop loss per cui è fondamentale capire che se fate trading non potete vincere tutti i trade neanche i trader più esperti che hanno fatto milioni di euro facendo trading vincono tutti i trade ma quello che fa la differenza è la gestione della percentuale che c'è il rapporto che c'è tra quanto perdete e quanto guadagnate all'interno del trade e soprattutto l'ultimo consiglio che vi dirò dopo il bankroll management per cui quanto rischiate per ogni trade il primo rapporto il primo la prima considerazione che riguarda il rapporto che c'è tra take profit e stop loss si consiglia un rapporto 1 a 3 per cui se perdo io ho perso supponete il 3% quindi se se mi entra lo stop loss io ho perso il 3% invece se vado a take profit dovrei avere almeno un 9% teoricamente questo vuol dire che per ogni trade vincente io recupero quello che ho perso che ho perso eventualmente dai tre precedenti trade e questo mi consente di avere addirittura una maggioranza di trade che sono perdenti e comunque di andare a guadagnare quinto e ultimo consiglio ragazzi riguarda come vi dicevo il concetto di bankroll management per cui gestione del proprio patrimonio in un certo senso e vuol dire quanto rischiare per ogni trade è importante comprendere che il guadagnare soldi facendo trading non è la questione del singolo trade della vita che mi fa raddoppiare o triplicare i miei soldi ma il concetto è azzeccare la maggior parte o comunque anche il 50% dei trade e avere dei guadagni che sono costanti nel medio lungo termine quindi il concetto di rischio tutto e spero che bitcoin salga del 50% non esiste se volete fare i trader quindi è molto importante gestire con intelligenza quelle che sono le quantità di denaro che andate a rischiare per ogni trade la regola d'oro teoricamente imporrebbe che per ogni trade non si rischi più del 4% del proprio capitale quindi se facendo i vostri calcoli lo stop loss andare in stop loss per cui con il trade che è stato chiuso in perdita prevederebbe la perdita di più del 4% del proprio capitale probabilmente dovete ridurre quella che è la dimensione del vostro trade in modo da stare sotto questa soglia è molto importante sapere che c'è sempre un altro trade c'è sempre un'altra opportunità di cui si può approfittare senza dover rischiare tutto il proprio capitale in un singolo trade o in una manciata di trade per cui ragazzi per oggi è tutto spero che questi consigli siano stati utili mi raccomando fatemi sapere nei commenti se avete altro da aggiungere se volete usare il referral link lì trovate sotto per iscrivervi per esempio a Tricommas grazie ancora per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao